Mentre si procede ad una digitalizzazione forzata delle scuole e aumentano gli investimenti in una tecnologia che a breve sarà obsoleta, intanto si trascurano le strutture che sono già obsolete da tempo e presentano il conto. Ad intervenire sul caso del professionale Marconi di San Giovanni Valdarno, dichiarato inagibile dall'inizio dell'anno scolastico per il crollo di un controsoffitto, è il sindacato Cobas Scuola. Nei giorni scorsi prosegue Cittadinanza Attiva ha presentato il ventunesimo rapporto sulla sicurezza nelle scuole. Sulle certificazioni nessun passo in avanti ne resta priva circa la metà delle scuole. Nell'ultimo anno scolastico ci sono stati ben 61 episodi di crolli. Per il professionale Valdarnese il prossimo lunedì ci sarà la prima buona notizia. Tutto l'indirizzo moda sarà trasferito nei locali della parrocchia di San Lorenzo a Montevarchi e torneranno a fare dunque lezioni regolarmente. La provincia di Arezzo, proprietaria dell'edificio e competente per le scuole superiori, ha assicurato che, lavori permettendo, tutto dovrebbe essere risolto entro novembre. Intanto per le restanti classi del Marconi, che ancora non sono state sistemate altrove, potrebbe aprirsi l'ipotesi della DAD per riuscire ad effettuare 5 ore. La DAD è insomma un termine, una modalità, per molti un brutto ricordo che tanti studenti, chi osa il Cobas, stanno ancora pagando in termini di formazione inadeguata. Grazie.